Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina nel mio secondo canale se ancora non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi oggi farò vedere la ricettina di un tortino senza cioccolato perché mi avete detto che vi ho fatto spesso questi tortini a cioccolato e c'è qualcuno di voi strano a cui non piace il cioccolato, assurdo a me invece piace variare quindi ecco perché vi sto facendo vedere questa ricettina è sana e leggera, proteica quindi va benissimo se vi allenate, se volete stare in forma se non volete ingrassare però volete mangiare qualcosa di buono, sano e gustoso molto molto buono, mirtilli e banane, una coppiata vincente è semplicissima, è super veloce, pochi minuti e avete pronta o la merenda o la colazione quello che preferite, spuntino, dessert eccoci qua allora per prima cosa allora andiamo a aspettare nella nostra bilancina gli ingredienti che ci occorrono allora per prima cosa ci metto la banana, molto matura guardate è tutta nera praticamente vabbè la vado a mettere qua dentro che la devo schiacciare potete utilizzare o il frullino o semplicemente una forchetta o una forza a mano come faccio io dopo l'albume carina di lisso lo yogurt greco che ha anche un ingrediente super proteico senza grassi io uso questo qua, zero va a venire più morbido e cremoso infine ci aggiungo i mirtilli i mirtilli li metto un po' dentro e un po' li conservo sopra per la decorazione per levitare invece del lievito mettiamo il bicarbonato ecco qua una puntina con goccine di limone sopra che fa la schiumina significa che sta levitando ovviamente voi guardate anche gli altri video dei tortini che ho fatto sempre su questo canale perché il procedimento più o meno è simile e potete fare delle varianti così ogni giorno mangiate qualcosa di diverso vi lascio tutti i link nei box informazione e cliccabili in sovraimpressione ecco qua e finalmente versiamo nel nostro contenitore di vetro potete prendere anche una tazza io vado direttamente nel contenitorino non lo riempite fino in sopra perché poi cresce nel microonde se non avete il microonde che spesso mi chiedete li potete fare anche nel forno ovviamente nel forno dovranno cuocere un pochino in più 4 minuti al microonde ed è pronto e voilà è fatto lo prendo con un pannuccio perché si riscalda scende praticamente da solo dovete stare solo attenti che si fa caldo questo eccolo qua guardate che bello è super morbido adesso lo decoriamo per decolare mettiamo un po' di yogurt che è avanzato appunto guardate come è bello ti sembra il kinder paradiso è bello poi ci mettiamo una pioggia di mandorline pelate a taglie se no le fate voi a pochettini sono bello è troppo bello e poi per finire inizio buona torta hai visto com'è bello Nancy? troppo carina senza zucchero senza lievito senza burro senza niente senza niente leggero sano e leggero ed è buonissimo ecco qua wow è un po' carino yummy è buonissimo ragazzi se vi è piaciuto questo video mettetemi un bel pollice in su lasciatemi nei commenti fatemi sapere se lo fate se vi piace e vi mando tanti baci vi aspetto domani con un nuovo video ciao mmm guarda qua ma io le teniamo a morbidezza per fare una torta troppo buono è vero? si poi escono questi mirtilli in mezzo a sorpresa mirtilli a sorpresa ci sta dentro mmm come sei carina Nancy una bimba golosa mi piace mi piace mi piace mi piace